Ciao a tutti ragazzi e ben ritornati in questo nuovo video e buon inizio di settimana. Come state? Allora, abbiamo da discutere un paio di cose. Vorrei partire prima dal derby di Milano disputato ieri sera e poi in seconda battuta arrivare a rispondere a una domanda che mi state facendo in tantissimi inerente a Douglas Lewis, c'è un po' di preoccupazione sul giocatore. Vi dico che questo video andrà a generarne un altro che uscirà nella giornata di domani e cioè come cercare di migliorare la Juventus, perché la Juve sta facendo un buon campionato, una buona stagione fino adesso, anche la classifica che è strana significa che è un campionato divertente, un campionato appassionante, un campionato per niente scontato, basti guardare l'Inter che ieri sera ha perso e che va a generare una classifica un po' particolare. Però la Juventus avrebbe potuto, a mio modo di vedere, avere una classifica ancora migliore non tanto per il pareggio contro Roma e Napoli, per me il pareggio contro Roma e Napoli anche se in casa a questo punto della stagione con quello che è l'inizio di un nuovo progetto tecnico ci può stare tranquillamente, sono quei due punti con l'Empoli che mi danno un po' noia nonostante l'Empoli sia comunque una squadra imbattuta. La Juve rimane ancora una volta l'unica squadra nei maggiori cinque campionati europei a non aver ancora mai subito gol, la difesa della Juventus è oggi l'arma migliore della Juve e arriveremo a parlarne all'interno di questo video, però credo che anche un discorso legato e relativo a quelle che sono le scelte di Inzaghi o comunque la prestazione vista ieri tra Inter e Milan possa ricadere all'interno di questo contenuto, proprio per questo che voglio parlarvene. Lo vince il Milan, lo vince a mio modo di vedere anche meritatamente, non tanto per un discorso legato al numero di occasioni eccetera eccetera, quello lo voglio lasciare da parte io credo che vada premiata quello che è stato l'atteggiamento perché Fonseca ieri sera l'ha vinta lui, possiamo stare qui a parlarne finché vogliamo ieri sera è stato determinante l'allenatore del Milan, per un motivo ieri Fonseca l'ha vinta con l'intensità il Milan è stato schierato con un 4-4-2 o forse anche un 4-2-4 molto molto offensivo che aveva la volontà di andare a pressare fortemente tutti gli uomini dell'Inter non so se vi ricordate, ne abbiamo parlato spesso anche qui su YouTube nell'anno del primo Allegribis, il primo anno di Allegribis quando a Torino facciamo una partita sicuramente molto buona con l'Inter dove finisce però 1-0 gol di Cialanoglu su rigore una partita in cui secondo me la Juventus avrebbe meritato di più che invece finisce con i tre punti per Simone Enzaghi perché mi era piaciuta la Juve perché Allegri aveva un pochettino ricalcato questo modulo e aveva giocato con un 4-2-3-1 con Di Bala trequartista che è un po' quello che ha fatto ieri Morata per andare a fare lo schermo su Cialanoglu Vlaovic di punta ieri nel caso del Mina Renata Biabram a destra quadrado ieri Pulisic e a sinistra Alvaro Morata proprio tra l'altro dove invece ieri ha giocato Rafa Leao quindi questa voglia di andare ad attaccare il terzetto dell'Inter e Cialanoglu che è il primo regista l'Inter da questo punto di vista si è un po' difesa cercando di fare impostare Barella per liberare quindi la marcatura di un uomo abbassava Barella che andava ad impostare e Barella è stato anche un po' una spina nel fianco in realtà per il Milan con tante sventagliate sulla sinistra proprio come l'occasione del gol del pareggio di Di Marco dove c'è stato un grande errore secondo me di Emerson Royal e in generale tutta la formazione del Milan ma il Milan l'ha meritata perché ha fatto una partita intensa in cui voleva cercare di andare veramente a non far respirare l'Inter nel possesso palla nella costruzione dal basso e quindi complimentoni a Fonseca per aver azzeccato l'arma vincente dall'altra parte a Tutti in the Box della settimana scorsa io vi parlavo di un'eccessiva negatività nei confronti dell'Inter perché la settimana dell'Inter era composta da Monza sì dove c'era stato un turnover molto importante ma secondo me è necessario per affrontare al meglio Manchester City in Champions ed Erby in Serie A dopo una settimana e dopo due risultati non proprio eccellenti per l'Inter tra lo 0-0 della Champions League e questa sconfitta nel Derby vi dico che ora invece una piccola critica di Inzaghi che è piccola ma secondo me anche molto grossa è giusto farla ed è questo il passaggio che poi ci porterà all'argomento principale della Juventus cioè Douglas Lewis io non credo che sia logico andare a sostituire tutti e tre i centrocampisti titolari contemporaneamente in una partita così difficile in una partita in cui ancora il risultato è in bilico perché se Mkhitaryan e Cialanoglu erano già stati ammoniti certo per fermare delle ripartenze del Milan perché il Milan questo voleva fare breccare e ripartire sfruttare gli esteni sfruttare le ali, sfruttare l'ampiezza sfruttare quei giocatori come Leal e Pulisic sugli esterni che potevano dare quel qualcosa in più perché l'Inter è comunque una squadra che quando attacca attacca con tanti effettivi e quindi sulle ripartenze magari poteva lasciare qualche spazio anche se l'anno scorso l'Inter praticamente non aveva mai subito dei tiri sulle ripartenze perché era molto organizzata ma se tu vai a togliere il centrocampo che sono i filtri veri e propri dell'Inter e la costruzione del gioco e soprattutto vai a sostituire Barella, Cialanoglu e Mkhitaryan con tutto il rispetto possibile con Aslani, Frattesi e compagnia cantando probabilmente il tasso qualitativo della squadra si abbassa il Milan ha la possibilità anche di creare più pericoli e poi in un modo o nell'altro in questo caso con un calcio piazzato battuto molto bene da Renders che ha fatto una gran partita ecco che la frettata è fatta e i tre punti vanno a casa con il Milan in maniera molto inaspettata ma ripeto molto molto meritata quindi secondo me c'è stato un grave errore di Inzaghi che è molto legato invece alla sua filosofia del se un giocatore ha munito lo vado a sostituire però secondo me qui è stata estremizzata e quando cambi tutto il centrocampo e il centrocampo dell'Inter sappiamo essere veramente una delle armi principali di Nerazzurri può capitare come in questo caso che poi la partita venga vinta dagli avversari e allora entriamo nella discussione centrocampisti arriviamo a parlare di Douglas Lewis perché Douglas Lewis è un giocatore che oggi alla Juventus è considerato un oggetto misterioso tra virgolette o no scegliete voi oggi è un oggetto misterioso perché è stato un giocatore molto pagato dal punto di vista economico anche se poi dobbiamo considerare che nell'operazione in maniera slegata ma con lo stesso club c'era la cessione di Barnecea e di Dilling Junior che poi sono andati in prestito a giocare questo è un altro discorso però sappiamo che la Juventus ha sborsato per il giocatore 50 milioni di euro che non sono assolutamente pochi perché non sta giocando oggi Douglas Lewis? sono tante letture secondo me molte letture la prima io spero che sia un discorso legato al rendimento fisico e cioè oggi è un giocatore che non dà garanzie da quel punto di vista un giocatore magari ancora indietro con la preparazione un giocatore che deve adattarsi non solo ai nuovi schemi di Tiago Motta ma pure al campionato italiano ai suoi ritmi alla sua fisicità eccetera eccetera certo è che Douglas Lewis viene da un campionato come la Premier dove ha giocato anche delle ottime partite quindi dal punto di vista del ritmo e della fisicità non dovrebbe avere particolari problemi anzi abbiamo visto spesso e volentieri che dei giocatori che arrivano dalla Premier poi in Italia fanno delle grandi prestazioni mi viene in mente Tammy Abram mi viene in mente Pulisic sono tutti giocatori che comunque hanno sempre giocato abbastanza bene però ovviamente ogni giocatore ha una sua storia ogni giocatore è differente io prendo in considerazione anche McKennie che quando è tornato dalla Premier secondo me è migliorato tantissimo nonostante una stagione anzi sei mesi in una squadra che poi è retrocessa dove McKennie sicuramente non ha brillato però per me McKennie quando è tornato in Serie A era un giocatore completamente differente ed è proprio ironico a volte il destino perché al posto di Douglas Lewis gioca McKennie che era quel giocatore che ha rischiato di far saltare la trattativa perché alla Stoneville lui non ci voleva andare era il giocatore che doveva liberare il posto a Douglas Lewis e che invece è rimasto rinnovando al ribasso dopo aver rifiutato la destinazione è ironico perché invece oggi è proprio McKennie che ha preso il posto da titolare ai danni di Douglas Lewis abbiamo visto che Tiago Motta dalla partita con l'Empoli alla partita col PSV alla partita col Napoli non è che è andato a cambiare tante cose se con l'Empoli gli unici cambi erano stati McKennie appunto al Pol che non aveva giocato ma giocava da casa su Lewis e giocava sulla sinistra con Cobbeners a destra e il portiere con il Napoli c'è stato un solo cambio rispetto al PSV e cioè non ha giocato Gatti per una ragione fisica perché Gatti è il giocatore migliore della Juventus in questo video di stagione al suo posto Calulu è andato a prendere la posizione centrale ha giocato Savona come terzino di destra in una partita contro Kvara che secondo me ha vinto il nostro numero 37 quindi bene o male la Juventus è quella però abbiamo visto contro il Napoli e contro il PSV un McKennie svolgere dei compiti completamente diversi rispetto a quelli che ha fatto Douglas Lewis intanto col PSV è stato anche un giocatore che è andato in gol ha segnato una rete la rete del 2-0 e aveva già rischiato di segnarne un'altra sullo 0-0 quindi tempi di inserimenti di McKennie ottimi non è una novità ma è un giocatore che sui tempi di inserimento fa sempre molto bene aggiungiamo la fisicità del giocatore ma soprattutto aggiungiamo quella che è l'intensità che McKennie mette nella fase di non possesso palla è proprio qui che voglio entrare più nel profondo nel discorso perché lo dicevamo anche prima la Juventus oggi è l'unica squadra nei top 5 campionati europei a non avere ancora mai subito gol in campionato quindi questa è un'ottima notizia sicuramente per la Juve però questa notizia va anche contestualizzata la Juventus è una squadra che fa della fase difensiva della fase di non possesso palla una delle armi vincenti è ovvio che non dobbiamo solo individuare nei giocatori difensivi questa qualità perché la Juventus comunque è una squadra che va a pressare quando c'è la pressare o difende a blocco basso quando c'è da farlo e tutte e due queste cose le fa da squadra perché se va a pressare ci vanno tutti perché se pressi male liberi dello spazio e quello spazio si trasforma in occasioni per gli avversari e non mi sembra questo il caso della Juve significa che la Juventus sa pressare sa pressare bene e sa quando andare a pressare quando accetta di difendere a blocco basso e lo fa senza problemi lo fanno tutti tutti e undici dietro la linea del pallone per poi cercare di ripartire quando c'è la necessità però è anche vero che significa che alcuni giocatori hanno la necessità di utilizzare di affrontare la fase non possesso palla in maniera differente e allora arriviamo un pochettino sulla grafica questa è la formazione tipo bene o male la formazione che è scesa in campo contro il PSV e che sarebbe stata confermata anche col Napoli in caso di presenza di gatti Douglas Lewis a differenza di McKennie non è in grado di coprire tutta questa zona di campo perché abbiamo visto che comunque Cobb Mainers McKennie Ildis Nico Vlaovic vanno a pressare Douglas Lewis una volta che arriva qui probabilmente oggi ha meno capacità di McKennie di coprire tutta questa porzione di campo aggiungo anche il fatto che abbiamo visto che Tiago Motta alle mezze ali richiede un certo tipo di gioco un certo tipo di approccio e cioè di stare molto larghi e quindi ovviamente non devi coprire il campo solo in verticale ma pure in orizzontale devi andare a prendere tutta questa zona per questo motivo alcune persone l'hanno già battezzato come Arthur 2.0 io credo che sia molto presto credo che Douglas Lewis possa essere un giocatore molto importante per la Juve e credo che principalmente oggi le ragioni siano fisiche di copertura del campo perché non è in grado di dare la copertura e quindi la qualità nella fase di non possesso palla di McKennie ma soprattutto soprattutto tattiche tattiche proprio perché oggi Tiago Motta alle mezze ali richiede un tipo di lavoro differente proprio da qui vorrei partire per affrontare un nuovo argomento che secondo me è un pochettino l'argomento principe per cercare di capire la risposta giusta alla domanda sacrosanta perché la Juventus fa così fatica a segnare e quindi voglio agganciarmi a questa chiusura di video per aprirne un altro che vedrete domani in cui vado a rivelarvi il nome del giocatore che secondo me oggi manca maggiormente alla Juventus è un'analisi che va fatta è un'analisi che potrebbe anche sorprendere ma credo che sia un'analisi giusta e spero almeno quantomeno condivisibile quindi oggi ci fermiamo qui io credo che Douglas Lewis possa essere un giocatore molto utile per la Juventus del futuro credo che sarà un giocatore importantissimo per questa stagione che sarà lunga se non lunghissima è troppo presto per battezzarlo come pacco bidone fallimento operazione plus valenza è ancora un po' presto con calma le motivazioni possono essere molteplici e poi io sono sempre fan del dare la valutazione a un giocatore trascorsa almeno una stagione piena è un bel pezzo della seconda stagione perché se no si rischia di fare delle brutte figure o di dietro fronte ah sì è un pacco ah no cazzo è forte no in effetti fa schifo no mamma mia però quando sta bene quanto è forte non è così che va fatta l'analisi bisogna cercare di comprendere di farsi delle domande di darsi delle risposte di cercare di capire perché in un determinato momento viene preferito un altro giocatore con caratteristiche completamente differenti Douglas Lewis è molto tecnico McKennie è molto fisico quindi è proprio differente l'utilizzo che viene fatto anche se la casellina nei titolari viene occupata da quel giocatore io vi chiedo intanto di creare un dibattito di quelli belli costruttivi che sappiamo fare che sapete fare qui sotto nei commenti perché ci sono sempre tanti spunti di riflessione che possono portare a video come questi perché questi video nascono anche dai commenti che avete lasciato nel video di ieri in cui vi parlavo delle difficoltà di Vlaovic ma non solo anche delle difficoltà della Juve in generale e di questo momento in cui la palla là davanti non arriva a seconda anche del giocatore differente non credo che sia quello oggi il problema non solo l'attaccante ma ci sono anche altri problemi di lasciare un like a questo video di iscrivervi al canale e oggi pomeriggio ci vediamo su Twitch per una live di quelle extra calcio che ho visto che stanno iniziando a piacere tanto e che poi ricarichiamo sul terzo canale e anche lì sto vedendo degli ottimi numeri degli ottimi risultati sono contento di questo quindi noi ci vediamo lì e ci vediamo domani per rispondere alla domanda delle domande perché la Juve fa fatica a segnare tanti gol ciao ciao